Finisce nel Pantano di Sponderano la corsa dell'Arona in vetta alla classifica, perde per due reti a uno e deve recriminare per due gol annullati. Vediamo le azioni salienti. Al ventiseiesimo Cavadini alza in angolo un tiro di Mattarollo. Al ventotesimo a Vergadoro c'è un tiro, Pasquali para il tiro del numero 9 aronese. Al trentoduesimo ancora Vergadoro, ancora parata del partiere Pasquali. Al trentotesimo Patti finisce a terra in aria, l'arbitro non fischia, proteste in campo in tribuna da parte dei supporter locali. Al quarantaquattresimo c'è un palo del Ponderano con Rizzo che a Cavadini è ormai battuto. La palla torna in campo e salvano i giocatori ospiti. Al ventesimo secondo della ripresa Ponderano in vantaggio. Pallonetto di Patti, micidiale, Cavadini è fuori e la palla finisce in rete per il vantaggio dei padroni di casa. Al decimo Cavadini chiude su Rizzo e poi su Ferla. Al ventiduesimo Petroni tira, respinge Pasquali e Misueca mette in rete. Annullato il gol per fuorigioco da parte del direttore di gara. Al ventotesimo c'è un tiro da 25 metri da Giorgi che coglie il pareggio per la runa. Palla che si sacca sotto la traversa. Da sottolineare è il gol numero 2500 nella storia della runa calcio nel dopoguerra. Al trentotesimo Misueca c'è una girata al volo che si porta a lato per un soffio a lato del palo più lontano. Al quarantaduesimo la Betta. La Beffa batte Patti, Cavadini in uscita è proprio la palla che si sacca a filo del palo più lontano colliendo il gol del vantaggio per il 2-1. Al quarantasetese c'è un nuovo gol dell'arona, questa volta di testa di Vergadoro viene di nuovo annullato per fuorigioco. Risultato finale a Ponderano, Ponderano 2, Arona 1.